270 lavoratori appesi alla notizia dell'amministrazione straordinaria che arrivano a circa 400 se si considerano le aziende dell'indotto. C'è forte preoccupazione nei sindacati dei lavoratori che commentano la notizia della nomina del commissario alla Cantarelli S.P.A. Questa decisione è arrivata con tanti tanti tempi di attesa, questo non ha fatto bene sicuramente ad un'azienda della moda perché purtroppo sulla moda la variabile tempo non è indifferente perché significa a volte anche perdere possibili occasioni di mercato. La moda va su stagioni e quindi una volta una stagione persa non si recupera. Quindi ce l'aspettavamo, noi non possiamo che fare altro che prendere atto della decisione del Tribunale e stiamo già cercando un primo contatto con il commissario designato, gli faremo una richiesta d'incontro e ci auguriamo sin da ora che ci risponda prima possibile. Ricordo che ci sono 271 persone a lavorare, oltre a queste ci sono tutti i dipendenti delle aziende dell'indotto quindi arriviamo a circa 400 persone e il nostro primo impegno è quindi quello di salvaguardare e tutelare questi lavoratori ma soprattutto questa fondamentale attività produttiva. Adesso il commissario avrà 30 giorni di tempo per valutare l'azienda ed in parole povere capire se ci sono asset validi per la vendita al miglior offerente. Beh, intanto noi dovremmo capire con il commissario quale sono le azioni che intende fare per tutelare il lavoro ed i lavoratori poi naturalmente ci auguriamo che il commissario faccia tutte le verifiche, le analisi possibili ed immaginabili ripeto, per tutelare l'attività produttiva e i lavoratori perché questo credo che sia il compito primo del commissario. In caso contrario si aprirà la strada del più classico e triste fallimento.